La riapertura della strada era prevista nel giro di due o tre giorni, ma la SACA è riuscita ad accelare i tempi per istituire alla città di Sulmona l'arteria stradale nella giornata di oggi. Riapre via Iapasseri dopo lavoraggine che si era aperta sabato scorso e aveva portato alla chiusura della strada per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza degli automobilisti. Dopo i rispettivi sopralluoghi di SACA e comune da lunedì tecnici hanno cominciato a scavare nella lavoraggine, individuando la perdita d'acqua come causa dell'evento. I lavori sono partiti immediatamente e hanno consentito il ripristino della strada in tempi record. Abbiamo riaperto prima di quanto promesso, tiene a sottolineare l'amministratore unico della SACA Luigi Di Loreto. La circolazione è dunque ripresa regolarmente con la soddisfazione dei cittadini, visto che la strada in questione porta al centro storico ed è una delle zone nevralgiche del capologo Peligno.